bisogna essere precisi nei principi quando nasciamo acquisiamo già quella che si chiama capacità giuridica cioè quella di poter operare nel diritto e di essere titolari di diritti e di obblighi o doveri ma è a partire dal diciottesimo anno di età che noi acquisiamo quella che si chiama capacità di agire cioè quella di curare i propri interessi e quindi di poter da soli da soli compiere atti che abbiano valenza dal punto di vista personale o patrimoniale quindi dov'è il problema la capacità di intendere vuol dire rendersi conto del significato delle proprie azioni della propria condotta la capacità di volere significa autodeterminarsi liberamente quindi quando si prospetta il problema del rilascio eventuale di un certificato di capacità di intendere di volere da parte del medico di medicina generale io sarei molto 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 prudente e cauto perché la domanda che io mi faccio è come può un medico di medicina generale avere la perfetta cognizione che chi sta davanti il suo assistito o paziente sia capace di intendere e di volere perché la capacità di intendere e di volere non può soltanto essere inficiata da una infermità mentale da una malattia mentale ma non dimentichiamoci che ci sono anche gravi disturbi della personalità ci possono essere anomalie psichiche ci possono essere patologie psichiche che non rientrano nelle malattie mentali e che non possono sono prive di quella che si chiama definizione clinica quindi qual è il suggerimento che mi sento di dare a un medico di medicina generale la premessa è che la cassazione penale ha stabilito che al diciottesimo al compimento del diciottesimo anno di età la capacità di intendere di volere si presume automaticamente quindi io se fossi un medico di medicina generale è un paziente mi chiedesse un certificato di che attestasse la capacità di intendere di volere io non lo rilascerei anche perché non dimentichiamoci che ci sono ci possono essere delle infermità transitorie saltuarie occasionali per cui un soggetto che in apparenza è capace di intendere di volere nel compiere un atto si trova in una situazione contingente e momentanea di incapacità di intendere o di volere quindi il mio modesto suggerimento è di non rilasciare alcun certificato che attesti la capacità di intendere e di volere di un paziente il medico di medicina generale dinanzi ad un paziente sui qua sul quale nutra dei dubbi circa la sua capacità di intendere o di volere dimentichiamoci che non dimentichiamoci che la o è una congiunzione alternativa o disgiuntiva può nel caso in cui avesse dei dubbi sul per esempio disturbi della personalità o comunque situazioni morbose che non rientrino nel novero delle malattie mentali può indirizzarlo ad un medico specializzato in mente mi viene il geriatra lo psichiatra il neurologo sono loro che a fronte di una analisi scientifica con precisi parametri valutativi possono certificare o meglio attestare una eventuale incapacità di intendere o di volere tenendo sempre presente quello che ho già detto la cassazione penale ha stabilito che al compimento del diciottesimo anno di età siamo tutti capaci di intendere e di volere in base a una presunzione automatica ovviamente se una persona da parte del medico specializzato viene inquadrata come affetta da una infermità tale da inficiare totalmente o parzialmente la capacità di intendere o ripeto la congiunzione alternativa oppure disgiuntiva o capacità di intendere o di volere beh in quel caso si aprono degli scenari perché ci sono gli istituti di protezione di coloro che sono totalmente infermi di mente oppure parzialmente sto parlando della interdizione sto parlando della inabilitazione che ovviamente debbono essere oggetto di una pronuncia da parte di un giudice grazie grazie